Il nostro Natale è fare memoria di un evento. Fare memoria è fondamentale se vogliamo custodire la coscienza dell'identità. Avviene nella vita di ogni giorno, ma a maggior ragione è necessario per le realtà della fede. Trovate in apertura della pagina spezzina di Avvenire il messaggio del Vescovo Diocesano per l'Avvento che inizia domani. E restando in tema, l'Avvento di Carità e l'impegno della Caritas, con l'inizio appunto del nuovo anno liturgico, prende via anche quest'anno l'iniziativa dell'Avvento di Carità. Per tutto il periodo di preparazione a Natale, il Vescovo e la Diocesi suggeriscono alcuni impegni di sacrificio e di offerta all'insegna della solidarietà verso le persone in difficoltà. Sacerdoti da dieci anni, due giovani sacerdoti, hanno ricordato nei giorni scorsi un importante traguardo della vita sacerdotale. Si tratta di Don Pietro Cattaneo, parroco di Santa Caterina a Sarzana e di Don Filippo Santini, parroco a Piana Battolla e Botagna. Venerdì appunto hanno festeggiato il decimo anniversario della loro ordinazione. A centropagina, verso una società post-umana, se ne è parlato nel corso di un incontro alerici, l'occasione è stata la presentazione del libro di Giulia Bovassi, L'eco della solidità. E a fondo pagina con Niccolò V, alle radici dell'Europa, i primi risultati delle ricerche sui libri greci del Papa Sarzanese a cura della Vaticana. E a fianco i racconti di Paolo Bassani. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire. Queste le sc mercado a venire, scrivete i luci dati vabborde.